Più stranieri e meno italiani. Come su gran parte d'Italia, anche a Pesaro il turismo ha registrato un'affluenza maggiore di famiglie provenienti da fuori penisola. Affluenza che però, nella città capitale della cultura 2024, complessivamente ha registrato finora un netto calo rispetto alle presenze di un anno fa, segnando tra i mesi di giugno e luglio una perdita di circa il 20%. Regressione che ha toccato anche la prima settimana di agosto, salvo poi riprendersi nei giorni attorno a ferragosto senza però raggiungere il tutto esaurito. Un passo indietro evidente dovuto soprattutto in un primo momento alle conseguenze provocate dall'alluvione che ha colpito la Romagna a maggio e poi appesantito dall'innalzamento dei tassi di interesse provocando minor liquidità nelle tasche degli italiani. E allora pare lecito domandarsi dove una città come Pesaro, in vista anche dell'appuntamento per il 2024, può migliorare nella proposta turistica senza dipendere da fattori esterni incontrollabili. Un possibile ampliamento dell'offerta turistica per Pesaro è stato individuato da Paolo Costantini, presidente di Appautels. Bisogna sempre fare meglio e bisogna diversificare anche nei target turistici. Ovviamente noi partiamo già da una buona base di circa un 80% di attività e di turismo balneare, questo non se lo dobbiamo mai dimenticare perché comunque siamo una località balneare e Pesaro, per quel poco che è conosciuta come località balneare. Tutto il resto è da ampliare, bisogna lavorarci con una visione anche di medio periodo e quindi il turismo culturale, il turismo enogastronomico, il turismo più legato ai giovani. Noi non dimentichiamo che siamo vicini alla Romagna e i nostri giovani ovviamente dobbiamo impedire che vadano nelle serate del sabato sera in Romagna, quindi va benissimo le attività ricreative per i giovani a Pesaro, anzi potrebbero essere anche meglio organizzate e ampliate. Se da una parte ci sarebbe l'intenzione di ampliare le proposte per un turismo più giovanile, dall'altra bisogna ancora fare i conti con la voce grossa degli albergatori del lungomare e con il potere decisionale dell'amministrazione comunale. Su questo bisogna più che altro fare una riflessione nelle zone in cui questo avviene, anche perché sono delle attività poco concilianti con quelle che ad esempio sono le attività alberghiere, mentre magari in altre zone della città si possono avere anche luoghi in cui fino a tardanotte si fa festa e si ha delle attività più ludico-ricreative importanti. ovviamente questo è un aspetto prettamente politico di gestione della città e noi per quanto riguarda la nostra parte possiamo dare delle consigli e possiamo dare la nostra visione, però ovviamente va concertata anche con tutte le altre parti.